Beh, che vi dicevo? Ehi, Yumi Sì, pronto? Signor Delmas, è lei che parla? Sì, sono io Per caso sa dove è Yumi? Sì, è qui con me, è nel gabbiotto degli attrezzi ed è ferita Signor Delmas Sì, sono io Sì, sono io Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!